A seguito anche di quelli che furono i momenti abbastanza drammatici dello scorso anno, laddove furono avviate le procedure di licenziamento per i dipendenti, il proprietario ebbe assicurazione da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco che l'amministrazione si sarebbe attivata nel più breve tempo possibile per trovare una localizzazione. Noi non siamo per principio contrari all'azienda e questo lo abbiamo sempre detto e manifestato, quello che siamo contrari è a spostare un problema, se noi spostiamo il problema da Gricignano al Trebbio non abbiamo risolto niente e ci dispiacerebbe che per altri vent'anni fossero gli abitanti del Trebbio a soffrire quello che fino ad oggi hanno sofferto gli abitanti di Gricignano e poi comunque definitivamente non si risolverebbe sicuramente il problema della fungaia perché laddove l'impianto per la produzione di funghi, dove i funghi nascono, non crea particolari problemi e potrebbe stare tranquillamente all'interno di una zona industriale, la piazzola risulterebbe in questo caso abbastanza lontana dalla zona di produzione stessa, ammesso che la zona di produzione possa rimanere a Gricignano. Altrimenti si tratta di spostare tutto l'impianto, il che richiede degli investimenti molto elevati. Per quel che riguarda anche la piazzola di compostaggio potrebbero essere trovate delle soluzioni. Risulta che anche al nord ci siano degli impianti del genere che sono fatti in decompressione con dei filtri particolari per cui non creano nell'ambiente particolari odori ma richiedono investimenti dell'ordine di qualche milione di euro. Quindi la soluzione per voi sta nel tipo di investimento che può essere fatto e in un'altra area della città? Esatto. Ora, al di là di quello che era, non voglio fare polemica con il programma del sindaco attuale, del sindaco Polcri, laddove prevedeva un giardino verde fra la E45 e il Trebbio. Però poi gli abitanti del Trebbio, già penalizzati per il depuratore, che qualche problemino, anche se piccolo, però lo dà, ora con il canile sanitario, che è una struttura civilissima per carità, ma qualche problemino nel tempo lo può dare, e ora ci delocalizziamo anche questo. Cosa intendiamo noi per dire? Cerchiamo di fare un qualcosa di definitivo. Cerchiamo di far produrre all'azienda un piano di sviluppo agricolo serio. Un piano di sviluppo che preveda un impianto della tipologia di quello che dicevo prima, in decompressione, eccetera, che non crei problemi ambientali per nessuno, e a quel punto vediamo se lo possiamo collocare addirittura all'interno delle zone industriali stesse. Grazie. Grazie. Grazie.